attenzione perché c'è andrea zucchetto di grado attivo che ci chiede la linea per presentarci diciamo nell'ultimo evento che è stato realizzato nella città nell'isola del sole promettete l'isola del sole lo scorso weekend qui a grado l'isola del sole si è tenuto un grande evento la elsa relis una obstacle course es una corsa ad ostacoli creatura di cristiana la vedo un ragazzo di udine con un grande pool di volontari hanno portato questo evento qui a grado sul nostro territorio dove più di 400 persone che sono venute da tutto il territorio italiano quindi varie regioni del territorio italiano e territori limitati quindi svizzera austria e slovenia dovrà affrontare questa sfida il comune di grado si è subito dimostrato molto disponibile e ha predisposto sul territorio le proprie forze di polizia locale per la sicurezza del tracciato sicurezza stradale mentre grado attivo ha dato una mano a livello logistico e gestionale l'evento si è concluso con un successo sono stati tutti molto entusiasti per cui amici di tg events vi saluto vi salutiamo e speriamo di sentirci in edizione nel 2024 ciao